Fermo Donato, fermati! Fermo, fermo! Sei matto Donato, fermati! Ma non te l'han detto? Niente feste, non si fanno le feste! Non si invita più nessuno, neanche a casa, non più di sei persone. Io c'avevo qui la zia Concetta, la zia Mariucci, hanno dovuto mandare via una torta, la festicciola, non so cosa farne di questa torta! Ma sai cosa ti dico? E tu lo sai, noi siamo per rispettare le regole sempre, le regole si rispettano. Ma quando le regole ti dicono cosa devi fare tu a casa tua, quando addirittura ti minacciano di mandarti la polizia a casa a controllare cosa fare, io sai cosa ti dico Donato, sai di questa torta, lo sai cosa ne faccio, lo sai cosa ne faccio, io Donato ne faccio! Io ve la dico, non l'ho tirata a voi, no! L'ho tirata a loro, a loro, quelli che parlano così!